Ciao a tutti ragazzi sono Orco Verde, in questo video volevo informarvi che Rockstar sta cominciando oggi a rimborsare i giocatori regalando 425.000 dollari. Questi soldi saranno depositati sul conto alla Maze Bank e li riceveranno solamente i giocatori che si sono collegati su GTA Online entro o il 30 aprile. Per capire se Rockstar vi ha regalato i soldi o meno dovrete avviare una sessione di GTA Online, prima che vi faccia sponare in sessione dovrà uscirvi questa schermata con scritto congratulazioni sei stato ricompensato con 425.000 dollari. E se vi siete collegati su GTA Online entro oppure il 30 aprile ma Rockstar non vi ha ancora regalato nessun soldo, state tranquilli che tra qualche giorno sicuramente li riceverete, in quanto Rockstar ha specificato che i soldi saranno depositati sul proprio conto alla Maze Bank nel corso del mese di maggio. E niente ragazzi volevo informarvi riguardo questa notizia dato che Rockstar sta cominciando a regalare 425.000 dollari ai giocatori come aveva annunciato. Niente ragazzi se ci saranno altre novità ve le porterò sempre sul canale, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete i video e da or cover tutto noi ci vediamo alla prossima video, bella!